Stavo pulendo la barca, anzi svuotando l'acqua di questi giorni e mi sono accorto sotto il puntiletto mio di un giubbettino che galleggiava e non ci ho dato peso. Poi sono andato dentro in barca e con l'onda causata dalle barche si è girato il giubbettino e l'ho visto i capelli e il viso di una persona e là mi sono subito preoccupato. È successo poco prima delle 16 nelle acque di Punta San Giuliano a Mestre, accanto all'ingresso della Canottieri. Il corpo sarebbe di un uomo di mezza età e secondo una primissima ricostruzione non era in acqua da molto tempo. Al collo gli sarebbe stato trovato un disco per bilanciere da palestra. Una volta avvistato il testimone ha chiamato aiuto. Mi ha chiamato perché gli sembrava di aver visto una persona in acqua. Io non ci volevo credere, purtroppo con il mezzo marinaio abbiamo tirato su il sacco, lo zaino e purtroppo abbiamo visto che c'era un cadavere e quindi ho chiamato subito il 113. In breve sono giunti sul posto gli agenti delle volanti che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo e la scientifica. Sul pontile sarebbero poi stati trovati uno zaino e degli occhiali da sole. Varie le ipotesi al vaglio.